Al via lo screening di massa in provincia di Pescara. Da oggi la possibilità di sottoporsi gratuitamente ai test rapidi antigenici nei comuni della provincia, mentre i residenti di Pescara città dovranno attendere ancora almeno fino alla metà di gennaio. L'Asl ha deciso di partire prima in provincia e poi a Pescara perché a Pescara intanto sono iniziate le vaccinazioni per i medici, poi dal 7 gennaio ci sarà il tampone per gli studenti delle scuole superiori. Quindi completato questo intervento si procederà con lo screening di massa che realisticamente dovrebbe partire nella seconda decade del mese di gennaio con quei punti che abbiamo già messo a disposizione della Asl. Oltre questo però motivo del ritardo del capoluogo adriatico è anche quello che riguarda la mancanza di personale sanitario. Il comune ha lanciato un appello volto alla ricerca di volontari che possano adoperarsi nelle 40 postazioni in allestimento per i test. Appello che, dice il sindaco, è stato subito raccolto dai medici di base. Ovviamente l'impegno è un impegno molto importante per tutti sia in termini di personale sanitario che in termini di personale amministrativo che in termini di controlli con la polizia municipale e con la protezione civile. Però pensiamo che questa attività si svolgerà come tutte quelle che abbiamo svolto in questo periodo nella città di Pescara nella maniera migliore e più tranquilla. Il trend dei dati epidemiologici, conferma Masci, qui è incoraggiante ma è importante che quante più persone partecipino allo screening. Pescara è una città che in questo momento è molto tutelata per tutto quello che è successo, non solo Pescara ma anche la provincia di Pescara. Tant'è che oggi noi siamo la provincia che ha meno contagi in assoluto rispetto al trend del coronavirus da marzo a oggi. Però non possiamo abbassare la guardia.